Il cross e la corsa campestre sono altamente formative per i ragazzi e soprattutto per i ragazzi di tutte le specialità della corsa nell'atletica infatti qui gareggiano quelli che fanno gli 800 metri fino a quelli che corrono la maratona quindi direi che è l'inizio, proprio l'approccio giusto all'atletica leggera così come ho fatto anch'io da ragazzo quando d'estate facevo sì le gare in pista ma d'inverno poi mi dilettavo nel cross in mezzo al fango, in mezzo a delle gare da 150 partecipanti quando c'è da sgomitare, quando c'è da fare la volata e lo sprint fino all'ultimo metro perché devi guadagnare una posizione in più per la tua squadra quindi bellissimo scenario è sempre bello vedere tanti ragazzi che si impegnano che vincono, che perdono, che piangono, che ridono e che imparano a misurarsi con se stessi e con gli altri